Ma è probabile che il dibattito politico italiano cambi direzione domenica sera. Un forte vento di destra è infatti in arrivo dalla Turingia, la regione della Germania orientale che va alle urne, che sarà seguita tre settimane dopo da Sassoni e Brandeburgo, praticamente la metà della Germania orientale che va alle urne. Basti pensare che in Turingia i tre partiti che compongono il campo largo che governa la Germania a Berlino, cioè socialdemocratici, verdi e liberali, rischiano tutti e tre di non raggiungere la soglia del 5%, rimanendo così fuori dal Parlamento locale. Mentre l'estrema destra, i neonazisti della FD, sono dati dai sondaggi o primi o al massimo secondi, dietro o davanti alla CDU. Una forte affermazione dovrebbe averla anche una nuova formazione di populismo di sinistra, ma che ha contro i migranti e a favore della Russia praticamente le stesse posizioni della destra, formazione che si è raccolta intorno al carisma di un intellettuale marxista, Sara Wagenknecht, moglie tra l'altro di uno storico leader socialdemocratico tedesco, Oscar Lafontaine. Ma un trionfo del vannaccismo nel cuore dell'Europa porrebbe problemi seri anche al centro-destra italiano. Intanto riaprirebbe lo scontro sull'immigrazione tra Forza Italia e Lega, tema caldissimo anche in Germania dopo la scoperta che l'accoltellatore islamista di Solingen era un immigrato clandestino che doveva essere espulso. E rimetterebbe Giorgia Meloni di fronte all'alternativa, interpretare il ruolo della destra moderata che in Germania con la CDU rifiuta di allearsi con gli estremisti della FD o invece inseguire il vannaccismo sperando che non finisca per travolgere anche Salvini terremotando così la coalizione.